Ciao, sono il dottor Simone Astori di Microdent, centro dontoiatrica a Bologna. Se stai guardando questo video evidentemente sei interessato a rimuovere in modo protetto e da curato delle vecchie otturazioni contenenti mercurio nella tua bocca, quelle che si chiamano le amalgame. Ebbene, se hai questa esigenza oppure c'era una tua conoscenza o caro, sappi che sei nel posto giusto perché in Microdent adottiamo appunto il protocollo di rimozione protetta e di preparazione al paziente per far sì che si riduca al minimo il rilascio di mercurio durante la sostituzione dell'otturazione. Ebbene, in questo caso ti invito, se hai piacere, a cliccare qua sotto per prenotare una visita specialistica presso il nostro centro dove un nostro odontoiatre esperto potrà valutare in modo accurato effettuando anche eventualmente delle lastrine le tue vecchie otturazioni di amalgama per capire se vanno rimosse e come rimuoverle nella maniera più corretta e precisa possibile per far sì che tu possa liberarti da questo veleno dal tuo corpo. Ti saluto e ci vediamo a Bologna. Ciao!